Il meteo è offerto da Salve, è possibile effettuare la revisione? Sì, mi dobbiamo La revisione è un dovere per essere in regola sia con la legge sia con la sicurezza al volante Benvenuti al meteo di Firruge TV Vediamo le previsioni di domenica 28 giugno 2020 L'alta pressione si rafforza ulteriormente Determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvelamento all'alba Nello specifico sul litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne Giornata in prevalenza poco nuvolosa Salvo presenza di rubi sparsi al mattino Sul litorale meridionale rubi sparsi alternati a schiarite Per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata Venti deboli dai quadranti sud orientali in rotazione ai quadranti nord orientali Basso tirreno da mosso a poco mosso Canale e mare di Sicilia mosso Vediamo le temperature Palermo 22,36 Trapani 24,32 Agrigento 24,33 Enna 20,28 Caltanissetta 20,30 Ragusa 23,30 Siragusa 24,36 Catania 25,36 Messina 25,35 Grazie e appuntamento alle previsioni di domani